Un altro lenzuolo bianco, un altro morto ammazzato a terra. Killer ancora all'opera nel napoletano. Stavolta è stato freddato con diversi colpi d'arma da fuoco il pregiudicato Giovanni Panico, 33 anni. Era sotto casa sua in via Leonardo da Vinci a Mariglianella. Stava cercando di mettere a posto alcune biciclette, ma qualcuno all'improvviso lo ha chiamato. Neanche il tempo di voltarsi per vedere chi fosse ed è partita una raffica di colpi che non gli ha lasciato scampo. Aggiustare i bici era il lavoro con cui cercava di tirare avanti per guadagnare qualche spicciolo Giovanni Panico che aveva precedenti per reati contro il patrimonio. Sul posto sono giunti i carabinieri di Castello di Cisterna e del nucleo investigativo che stanno indagando sul caso. È molto probabile che si tratti di un regolamento di conti, anche se non si escludono altre ipotesi. Al vaglio degli inquirenti soprattutto le ultime ore di vita di Giovanni Panico, magari qualche telefonata fatta o ricevuta. Solo negli ultimi due mesi in tutto il napoletano sono state 17 le persone uccise dalla malavita organizzata in vari agguati. Tutti gli indizi portano alla guerra tra faide e i clan spaccatisi tra di loro, al loro interno. Più difficile quindi anche il compito delle forze di polizia. L'obiettivo di tutte le bande criminali è quello della gestione del potere in provincia di Napoli, in particolare per il traffico e lo spaccio della droga.